va ora in onda al culto evangelico valdese la predicazione di oggi è curata dal pastore marcello salvaggio care amiche e cari amici care sorelle e cari fratelli vi do il benvenuto al culto evangelico il vangelo di luca dice che il figlio dell'uomo è venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto con la gioia che ci viene da questo annuncio vogliamo dunque raccoglierci alla presenza del signore o signore noi invochiamo il tuo aiuto facci sentire la tua voce come quella di un padre e di una madre dacci il sostegno fraterno di tuo figlio gesù cristo donaci la potenza del tuo spirito in quest'ora e in ogni tempo amen leggo il salmo 32 la felicità del peccatore perdonato beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto beato l'uomo a cui il signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno finché ho taciuto le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me il mio vigore inaridiva come per l'arsura d'estate davanti a te ho ammesso il mio peccato e non taciuto la mia iniquità ho detto confesserò le mie trasgressioni al signore e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato e qualora straripino le grandi acque esse per certo non giungeranno fino a lui tu sei il mio rifugio tu mi proteggerai nelle avversità tu mi circonderai di canti di liberazione io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te non siate come il cavallo o come il mulo che non hanno intelletto la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia altrimenti non ti si avvicinano molti dolori subirà l'empio ma chi confida nel signore sarà circondato dalla sua grazia rallegratevi nel signore ed esultate o giusti gioite voi tutti che siete retti di cuore ci raccogliamo un istante in preghiera signore veniamo a te assetati di vita vera dissetaci tu fonte di vita rinnovaci con la tua energia facci sentire la tua presenza in mezzo a noi signore noi veniamo a te con i nostri cuori pieni di ansie paure e preoccupazioni apri i nostri cuori perché possiamo riconoscere la tua presenza dacci di riconoscere la forza di vita che proviene dalla tua parola e che ci permette di placare ansie e preoccupazioni grazie signore per quest'ora di comunione con te e con i nostri fratelli e le nostre sorelle rimani con noi in questo culto con il tuo spirito accompagnaci nei giorni che verranno quando avremo bisogno della tua parola consolatrice a te che signore sia la nostra lode amén amore eterno cura e più posentato tutti i miei giorni Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Perché dite nel paese di Israele questo proverbio? I padri hanno mangiato uva, cerba e i denti dei figli sono allegati? Come è vero che io vivo, dice Dio il Signore, non avrete più occasione di dire questo proverbio in Israele. Ecco, tutte le vite sono mie. È mia tanto la vita del padre quanto quella del figlio. E chi pecca morirà. Se Lempio si allontana da tutti i peccati che commetteva, se osserva tutte le mie leggi e pratica l'equità e la giustizia, egli certamente vivrà e non morirà. Nessuna delle trasgressioni che ha commesse sarà più ricordata contro di lui per la giustizia che egli pratica, egli vivrà. Io provo forse piacere se Lempio muore, dice Dio il Signore. Non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive? Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità e imita tutte le abominazioni che Lempio vivrà egli, nessuno dei suoi atti di giustizia sarà ricordato, perché si è abbandonato all'iniquità e al peccato e per questo morirà. Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, casa di Israele, dice Dio il Signore. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, perché dovreste morire, casa di Israele. Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice Dio il Signore. Convertitevi dunque e vivete. Voglio il Signore benedire la lettura e l'ascolto della sua parola. Il rabbino Eliezer, vissuto tra il I e il II secolo d.C., una volta disse «Convertiti a Dio un giorno prima della tua morte». I suoi discepoli gli chiesero «Ma noi esseri umani conosciamo il giorno della nostra morte?» Eliezer rispose «Proprio per questo devi convertirti oggi, perché forse muori domani. Impariamo quindi che dobbiamo convertirci ogni giorno a Dio». E già, care sorelle e cari fratelli, care amiche e cari amici, non è mai troppo tardi per cambiare vita, per convertirsi a Dio. E oggi, se ci pensiamo bene, di fronte a tutto ciò che sta succedendo attorno a noi, è davvero tempo di convertirsi, di tornare a Dio e al suo Evangelo. Se domenica scorsa l'invito alla conversione pronunciato dal profeta Giona era rivolto ad un popolo straniero e nemico, i Niniviti, quest'oggi la parola del profeta Ezechiele è pronunciata nei confronti del popolo di Israele. Cioè, non sono gli altri o solo gli altri che devono cambiare vita, ma il cambiamento deve partire da ognuno e ognuna di noi. Il brano tratto dal libro del profeta Ezechiele, in particolare, ci richiama alla responsabilità personale. Se ci troviamo nuovamente sull'orlo di una terza guerra mondiale, se il clima è cambiato in maniera imprevedibile, se la disuguaglianza sociale ed economica nel mondo è aumentata, non dipende esclusivamente da chi ci ha preceduto, dai nostri avi che hanno compiuto scelte sbagliate, perché il cambiamento dipende da noi. Vediamo allora che cosa ha da dirci Ezechiele quest'oggi. Siamo all'inizio del VI secolo avanti Cristo. Il regno di Giuda non esiste più, la capitale Gerusalemme è distrutta, la parte migliore della popolazione è deportata a Babilonia. In questa situazione il profeta Ezechiele viene chiamato da Dio per annunciare la sua parola al popolo disperato che si trova esiliato, lontano dalla propria terra. I deportati si lamentano e hanno pure coniato un proverbio i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Significa che gli errori compiuti dai padri li pagano i figli. Questo proverbio lo vedono realizzato nella loro vita, sempre più forte infatti è il lamento dei figli dei deportati. loro, dicono, i nostri antenati, i re del passato, hanno fatto degli errori, hanno peccato contro Dio e hanno così causato l'attuale disastro. Per i deportati sembra vero il proverbio. Si sentono vittime dei genitori, dei padri, incastrati in un destino che non meritano. Sembra che si trovino in una via senza uscita, proprio come potremmo pensare noi oggi con l'emergenza climatica. I giovani pagano gli sprechi e lo sfruttamento delle risorse dei loro genitori e dei loro nonni. Dio contraddice però questo proverbio. invita il popolo che si lamenta a prendere finalmente in mano la propria vita, a non guardare ai genitori e agli avi, al peccato che ha fatto sì che essi ora si trovino nei guai. Ezechiele insegna loro che ogni essere umano è responsabile delle sue azioni e non di quelle altrui. Non è vero che si è vittime delle scelte passate. Dio, infatti, è colui che ama la vita, che non vuole la sofferenza degli esseri umani, ma la loro salvezza e guarigione. Perciò egli dice fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, convertitevi dunque e vivete. Sono parole appassionate, pronunciate da chi ha davvero a cuore la sorte delle sue creature. Si tratta anche di un invito che non sembra avere 2500 anni sulle spalle, ma che può valere anche per l'oggi e con uno sguardo che punta sulla libertà della volontà della generazione presente. Convertitevi e vivete. Non vivrete come se dalla conversione derivi la possibilità di vita. No, questo sappiamo che non è così, perché la vita è un dono di Dio. Qui si tratta di due imperativi collegati tra loro, come dire queste sono le uniche cose da fare, tornare a Dio e vivere. Il contrario è allontanarsi da Dio e morire. Questi due imperativi spiegano anche perché Dio non ritiene valido il proverbio citato all'inizio. Uno psicologo ha scritto «Se qualcosa non va nella mia vita attuale, non devo cercare le cause nel passato remoto. Diventare adulto significa essere responsabile della propria vita». Ezechiele dice in fondo la stessa cosa. Potremmo parafrasare così le sue parole. Fino a quando volete accomodarvi nelle vostre lagne per gli errori dei vostri avi? Quando finalmente prenderete in mano la vostra vita? Quando finalmente vi convertite a Dio e riconoscete la vostra responsabilità per la vostra vita? Lasciate il passato. Tornate a Dio e tornate così alla vita. Davanti a Dio il vostro proverbio è nullo perché la vostra vita è nelle sue mani e siete voi a rispondere delle vostre azioni, non certo di quelle dei vostri avi. Come attualizzare dunque questa parola profetica? Vi do alcuni esempi. La crisi energetica, il richiamo alle armi, il problema dei rifiuti, la crisi che attraversano le Chiese. Sono tutte questioni che non dipendono esclusivamente da ciò che i nostri genitori o i nostri nonni hanno fatto, ma anche da ciò che noi possiamo fare. Se continuiamo a comportarci in maniera sbagliata, allora pagheremo le nostre scelte sbagliate. Se invece cercheremo di avere una condotta di vita ispirata alla volontà di Dio, allora avremo ancora davanti a noi un futuro promettente. Il profeta Ezechiele parla dunque anche al nostro tempo e invita ciascuno e ciascuna di noi ad una vera conversione che produce la vita in questo mondo, rendendosi protagonista del proprio futuro. Egli ci ricorda che Dio non vuole la morte dei Suoi, ma la conversione alla vita. I deportati di Israele infatti hanno la possibilità di cambiare la propria prospettiva conoscendo un Dio che sembrava lontano e riscoprendo un Dio amante della vita. Ancora oggi conviene guardare a Dio e vedere che è un Dio d'amore, di giustizia e di pace. Chi sperimenta questo Dio tenterà di vivere e di conseguenza anche contro le resistenze di chi non vuole cambiare o di chi è troppo pigro per cambiare radicalmente. Dio è un amante della vita. Ciò significa che vedere il mondo con occhi nuovi e agire di conseguenza con coraggio sono la nostra conversione, il nostro ravvedimento. fortunatamente Ezechiele non ha taciuto quando altri volevano farlo tacere. Così ha aperto l'orizzonte della vita al suo popolo. Anche noi oggi dobbiamo parlare della conversione a Dio e della vita. Il pastore e teologo Dietrich Bonhoeffer aveva detto ogni conversione e ogni rinnovamento deve iniziare in me. Non possiamo che sottoscrivere questa affermazione della fede. Amen. di sottoscrivere la Grazie a tutti. 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 Vi invito a raccoglierci nella preghiera di intercessione. Lo facciamo oggi con le parole del pastore Salvatore Rapisarda in una preghiera contenuta in questo libro della Seva. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti noi, ora e per sempre. Grazie a tutti.